Ci siamo ragazzi, eh! Ora magari mi metto anche a registrare, sono online, tranquilli, tranquilli Andiamo in creativa, andiamo a provare, dai, andiamo in creativa, andiamo a provare, dai Andiamo in creativa, vediamo un po' com'è, vediamo un po' com'è Allora, eh, vediamo se già l'hanno messo, penso di sì Eccolo! Eccolo, 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 eccolo Vai, 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 proviamolo Sapete cosa vi dico? Mettiamo anche questi qui Questi qua, vai Prendiamoci tutti questi qua ragazzi, devo, devo provarli per bene Quindi così, così, così Ok Vai, proviamoli così, attiviamoli tutti quanti, quindi accetta Eh, la mia isola Avvia partita, vai, proviamoli, eh Perfetto, allora, eccoci qua Madò, guarda te, guarda te È in cambio di una sfida, zio Porca vacca Vediamo Porco Giuda Vinchi ragazzi, è bello forte Vi facciamo? Scusa, no, ma se io tipo lo faccio così in basso Madò ragazzi, è fortissimo È fortissimo Quindi se lo faccio pure in alto Eh no, vedete Eh, dobbiamo, dobbiamo riuscire Cioè, non dobbiamo fare l'errore di lanciarlo troppo in alto Nella norma Cioè, un po' più in alto della testa Ok, un po' più in alto della testa ragazzi Non tantissimo Se faccio tipo rigenerazione Allora È vero Però ragazzi, mi sa proprio che è meglio se non mirate Mi sa, eh Guardate Ma quindi, ma se io faccio tipo così, no? Madò quanto è forte Un po' più in alto Un po' più in alto Ok E se lo facessi tipo Vabbè, allora, così in alto Penso che non va Esatto Così in alto non va Così E se invece lo metto proprio sotto, sotto, sotto Tipo così Mamma mia Ok, quindi ci sta pure così Ci sta pure così Eh ragazzi, è tanta roba È tanta roba Guardate Mamma, se ne hai Madò Oh, il devasto È il devasto ragazzi Ma è veramente un botto forte Cioè, forse è troppo Forse è veramente un po' troppo illegale Boom Boom Cioè, con due colpi praticamente lo sciogli Guarda Uno Due Sciolto Morto Malissimo Ragazzi, è fuori Fuori dal comune Se invece faccio così Allora, le strutture abbiamo detto Che Ah, guardate le strutture come rimbalza What the fuck Ah, ok Praticamente Rimbalza Esplode dopo dieci secondi Guardate Guardate E poi esplode dopo un po' Beh, ci sta ragazzi Ci sta E questo? Minchia Vabbè, comunque ragazzi No, è difficilissimo da trovare È veramente difficile Comunque, ora questo qui lo carichiamo immediatamente ragazzi Questo qua lo carichiamo immediatamente Grazie mille a tutti per aver visto questo video No, I won't give in I won't give in Till I'm victorious And I won't be friends I won't be friends And I'll do what I'm lost No, I won't give in I won't give in Lost, no glorious No, I won't give in No, I won't give in No, I won't give in